Questa mattina non sono solo perché c'è troppe cose di cui parlare, di cui non capisco niente soprattutto e quindi ho gli aiuti da casa, no anzi ho gli aiuti, gli aiuti in studio Li vuoi che i qui, li vuoi che i qui, anche tu La sentite Silvia Gatti, benvenuta Silvia Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Milano Dire, passavo di qua, ho citofonato Gli aiuto da casa, non era facile Tigre contro tigre No, quello non ci provo neanche, quello non ci provo neanche L'aiuto in studio invece di Silvia Gatti perché dopo capiremo invece quale sarà il tema che in realtà, oh, venerdì sembrava essere un brasso di quello Oggi non ne parla già più nessuno Ma noi lo ritorniamo su, parliamo di, come si chiama, dissing? Siamo in ritardo ma in ritardo con stile Approfondimento Approfondimento culturale, grazie direttore per avermi reintrodotta Mi sono ripresentata come, si suol dire, come le cucurbitacee La peperonata della nonna di due anni prima Eccomi qui sporadicamente Diciamolo subito, verrò sporadicamente Quando ho bisogno dell'aiuto da casa, appunto, io ti chiamo perché io su sta storia qui non ci ho capito niente Ma posso portarle anche ospiti di spessore e livello? La grande allora, ricordiamo una cosa Che l'estate sta finendo in questi giorni Anzi, è finita proprio oggi, oggi in realtà è l'ultimo giorno E quindi non potremmo capire con questa canzone L'estate sta finendo, Iri Geira L'estate l'è finita invece, Silvia Gatti? Sì, sì, basta abbronzatura Le ciglia finte sono tutte cadute Ritorniamocene in letargo Perché le ciglia finte cadono come foglie degli alberi in autunno Benissimo Non sapevo che fossero collegati però le due stagioni Ma d'estate noi ragazze ci mettiamo le ciglia finte per essere comode on the beach Ma poi cade tutto Cade tutto On the beach dove sei andata di bello quest'estate? Sicilia Bedda Io sto sempre lì a mangiare frittini e fare cose Bene, bene, bene Non ci notriamo Tu e la consorte? Abbiamo fatto un giro, gli ascoltatori sanno Siamo in Estonia, Lettonia C'hanno seguito, un bel giro Anche io vi ho seguiti Ah sì Due matti scolibrati Bel giro Bel giro Estate che, insomma, ha portato qualche notizia particolare che mi sono perso Quest'estate di gossip, cose così Dobbiamo stare qui fino a domani, tu ti perdi tutto il bello della vita Sì, sì, sì Allora, dobbiamo introdurre subito i nostri Vabbè, dai, introduciamosi No, allora, cosa è successo? A proposito di gossip, ma hai iniziato il Grande Fratello di nuovo? Ascolta, sì Grande Fratello, Tentation Island Che lo dico bene, non so dirlo ma Tentation Island Tutto, sì, sì, sì Già iniziato, peggio del campionato di calcio Ma calcio lo sai che con me Ma infatti, peggio di quello che è iniziato il 17 agosto Non ce la facciamo La Maria De Filippi mi manca l'appello I programmi culturali della Mary Queen Mary Queen Mary non mi è pervenuto Io però lo sai che non riesco a guardare Grande Fratello di Tentation Island Lo so Perché non ce la fai? È troppo Cioè, non riesco E se è troppo anche per... Non ce la faccio, non ce la faccio Quindi non è un complimento neanche quando mi dicono Saresti da Grande Fratello Io dico, come ti permetti E schiaffeggio con i guanti Ok Però vedi con i guanti Con un certo stile Infatti In senso di sfida Ma Vabbè, dai Allora Siamo Venerdì Venerdì Siamo andati tutti a letto Convinti che ormai non si parlasse nient'altro Cioè, che l'ONU lunedì avrebbe aperto parlando del dissing di Tony F e Fedez E invece, e invece E invece in un weekend? Allora, si è sgonfiato tutto Anzi, Chiara Ferragni, applauso, mi è tornata alla Fashion Week di Milano Te hai visto Era un po' che mancava Sappiamo il perché, non lo ripetiamo La cosa di cui non parlerò sono le cose veramente brutte che ci sono state nei due dissing Quindi, riferimenti a uso di droghe e ai figli di Fedez e di Chiara Ferragni È una cosa che voglio togliere Peraltro, i riferimenti sono stati tolti dalle canzoni stesse Dai dissing stessi Non circolano più su web Quindi, prima questi Ma posso dire che è ridicola come cosa? È ridicola Prima lo fai e poi dopo la levi Assolutamente sì Allora che dissing è? È comunque molto grave Sono delle hit, alla fine Pare che ci saranno delle Dicono così, i siti che leggo io Lo sai che mi occupo di cultura pesante Per questo che sono qui Pare che ci saranno delle denunce Ah, pure? Sì, sì Beh, hai sentito cosa hai chiamato Fedez Però quello che mi viene da dire è Cioè, il rap è quella roba lì però anche Posso dire che siamo molto lontani dal dissing fra Drake e Kendrick Lamar Il rap è questa roba qua in Italia Ci sono molti più pesanti all'estero Sì, probabilmente sono anche un attimino più leali Perché comunque a mio parere sono state dette delle cose troppo pesanti E sì, vocifera Che fosse tutto preparato Perché poi andassimo tutti all'una di notte Tre giorni fa Tre notti fa o due notti fa Sì, sì, venerdì Sì, venerdì A vedere il termine, il culmine del dissing fra Tony F e Fedez In realtà non era il culmine del dissing Bensì la nuova hit di Fedez Che dice anche delle cose carine su Chiara Ferragni e altre meno E tutti ci siamo rimasti un po' così Scusa, devo dire che quindi Tony F in realtà Ha preparato l'hype Si ha fatto l'hype Si, si Pare che sia questo Comunque complimenti ai ricci di Tony F Ecco, va bene Volevo dirlo Elvis Presley Suspicious Mind Insomma, sospettoso Sospicioso è sospettoso, giusto? Sì, sì I sospettosi siamo anche noi Per tutta questa storia del dissing Io ormai mi aspetto fregature ovunque Quindi anche Fedez Grazie Federico, Lucia Per averci truffati tutti È stato bello E il sospetto c'è Comunque nel frattempo Anzi, 331-78-53-555 Il nostro numero di Whatsapp Arrivano i primi Whatsapp Una buona settimana agli amici Cristallini Alle ragazze della redazione Al direttore e anche la Silvia Gatti Grazie Così scrive Alberto Ciao Albe Dopo una lunga serata Ieri alla festa di Cisano Boscone Sì, ieri sera si chiusò La festa di Cisano Boscone E in attesa della pioggia Infatti stamattina Beatrice è arrivata In studio con l'ombrello Già pronta Stile British Ci godiamo la vittoria nel derby Scrive Alberto Quindi capiamo da che parte sta anche Perché se avevamo qualche dubbio Ci sono due cuoricini Uno rosso e uno nero Tu sai che per me il derby È il succo di frutta Ma infatti Giusto Che ho scoperto Ha cambiato la grafica dell'etichetta L'ho scoperto ieri mattina Sì, molto carina Dopo le otto Ne parliamo del derby Vengono ospiti apposta Per parlarne Proprio Molto bene Allora Tony F e Fedez Anche qui Non è solo gossip Non è solo marketing Perché Innanzitutto Questo dissing Pare oramai preparato Si è capito Ha portato varie polemiche Perché ancora Siamo tornati a discutere Di alcuni aspetti Del rap Italiano e non Che sono molto Maschilisti Macisti Che parlano malissimo Della figura della donna Ma questa è cosa Comunque nota È imbarazzante questa fase Ti ho messo la base super quark Mi stai dando dell'animale No, no, no Di quella che è la scienziata Che mi sta spiegando Questo dissing Scienziata E allora ci Grazie Per quello La scienziata di Ecco Pensa Pensa ai cali La scienziata di sta sigla A proposito La mia sigla Di sei ragazzi Ce l'avevo pronta Ma se è entrata subito In trasmissione Il primo colpo Non l'ho potuto metterla Scusa Non l'avevo capito Poi la mettiamo in mezzo La mettiamo in chiusura Ci tengo alla sigla Allora Torniamo a Poma invece Perché A chi ci sta ascoltando adesso Magari non sa Quasi neanche Chi è fede Allora Adesso ve lo spiego Quindi polemiche sul rap Va bene Andiamo più Cioè come nasce tutto Tutto nasce da questo Innanzitutto È importante dire Che Fedez e Tony F Erano amici Ma lo erano fino a Prima dell'estate Ok Come io e te Ma io e te Da marzo dell'anno scorso Poi passate l'estate Non so anche chi sei Grazie Perché mi hai rivoluta qui T'hanno scritto I miei cugini Di origine siciliana Di Cilisello Ah ecco No no quindi Allora Fedez chiede a Tony F Prima dell'estate Di fare una collaborazione musicale Un featuring Featuring Fedez chiede a Tony F Tony gli dice Mentre era sotto al casco Per la permanente Dei ricci definiti Che io Cioè io non so come faccia Ragazzo saranno originali No perché è nato Quel prodotto per i ricci No scusami allora Tony F dice No C'ho l'altra La tizia Gaia Con Sest Samba Ok Che avrete Ormai Vomitato dalle orecchie Che è una hit Mo basta Ecco che è Natale Signora mia Fedez un po' Se hai risentito Sai che Fedez È tranquillo Di solito Ok Dire cosa hai toccato Te prego E quindi Da questo no Da questo no Ma Sai che poi Fedez È divertito Quest'estate Tutti a parte me Si sono divertiti Comunque È stato visto De qua È stato visto De là È stato visto Con quella È stato visto Con questa Mancavamo solo io e te Ai parti di Fedez Ti ci vedo Sono passato da City Life Ogni tanto No lui era yacht Da altre parti Ecco E non sulla martesana Te lo dico Chiara È stata avvistata Con Tony F Ma sì Ma questo me lo ricordo Ne avevamo parlato qua Una volta Senza di me No no con te Con te Con me non me lo ricordavo Si chiama Alzheimer Sono distratta C'ho tante cose A cui pensare Guarda che ho compiuto 42 anni Non è facile Agosto Quindi l'ha visto Insieme Quindi uno dice Ah mi litighi con Fedez E poi ti fai vedere Con la Chiara Mi piace mettere l'articolo Come facciamo noi milanesi Ma Fedez No chi ha cominciato Fedez o Tony F E tu con l'esperto Io non lo so Io non lo so Credo che no Poi Fedez Si sarà Incavolato Per questa roba Non lo so Sì 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 Allora Tony F risponde a Fedez O Fedez risponde a Tony F Comunque Vabbè uno dei due parte Mal Malissimo E l'altro lo segue peggio Ok Il Tony Ciao Tony Salutiamolo Mi fa una canzone Intitolata Canzone Una dissing Perché è più breve Di una canzone Intitolata Chiara Ok E dove fa sentire Distorto L'audio Di Chiara Originale Che lei gli ha mandato Poiché si sentivano Dove Chiara Pare parlasse male Di Fedez E dicesse Che lui Voleva comprare Degli streaming Quell'altro Quell'altro Non ti dire Guarda Non ti dico Quell'altro Gli risponde De qua De là Insomma Il tutto è Riassumibile In de qua e de là Per me Ok Alla fine Alla fine Arriva Fedez Che dice In ultima risposta Se volete sapere La mia verità All'una Uscirà Tutti erano lì Per la fine Del dissing Ok No È uscita una canzone Ma Chiara Pronta già da chissà quanto Quindi Si parla di settimane Chiara Ferragni La sera prima Ha parlato in una storia Di questa canzone Quindi Questa canzone Era assolutamente Già preparata E adesso Ve lo spiego Allora Ce lo spieghi dopo Perché prima Ci ascoltiamo proprio Sesso e Samba Con Tony F E Gaia Giannannini Con Bello E Impossibile Prima Mi ha Cazziato Si può dire Perché non gli ho messo la sigla Allora mettiamola adesso Adoro Sono il gatto Sul tetto Che ascolta Tutto come fosse La prima volta Con la faccia tv Più a radio Continua a dire Più che tv radio Baffi non ne ha Te l'ho detto Che se mi guardi da vicino Più verdi in realtà Grazie Se vi piace Chiamatemi Silvia Gatti Eccomi Sono qui Allora Eccola Allora stavamo parlando Del dissing Tra Fede e Sintonieff Tanto che è arrivato Un whatsapp Anzi prima leggo Il whatsapp Di Adriana Che mi sono appena perso Ma eccolo sì Che appena ascoltato Bello Impossibile E invece di scrivere Ah la dedico a te Che non capisco Perché non abbiamo capito Tutta la radio Ha scelto questa canzone Per dedicarla a me No Non ha scritto questo Ho detto Anche se bello Poi ti ho messaggio Anche se bello Oggi è tutto possibile È lunedì Buongiorno Mamma mia Adriana Stiamo vicini e vicine Anche a lunedì Poi iniziare con me lunedì Non è facile Invece Un altro whatsapp Che è arrivato poco fa Buongiorno a tutti Da quella di Bergamo Io sapevo poco Della questione Di dissing Tra Tony F E Fedez Però ieri Nella mia via Mi è capitato Di vedere Qualcosa di davvero Spassoso Su un camioncino Parcheggiato nella via C'era scritto Questo camioncino Gli ha lasciato un biglietto Con scritto Questo camioncino È parcheggiato In una via privata Da tre giorni Se entro domani E non lo sposta Sarò costretta A farle un dissing Sì Fra estranei È un po' di fila La vedo dura Non è male Però no Adesso partono dissing C'è gente che dice Ma non vi potevate telefonare E no Perché sai che ci hanno guadagnato E quello Pure followers Dicevo Chiara Ferragni La sera prima Pubblica una story Oltre ad avere già pubblicata Prima un'altra story Dove chiedeva Di essere lasciata stare Lei e i suoi figli Anche lì molti dicono Ma hai pubblicato Fino a ieri E lo so Però lì l'ha deciso lei Poi di poesia sembrava Sì Però essere tirata in mezzo È diverso Che decidere Di pubblicare le tue robe Almeno questo è il mio parere Pubblica una story Dove sembra già conoscere Il testo Della canzone Che dissing appunto Non era Dove lei dice Non verrà pubblicato Nulla di sincero Né di romantico È solo qualcosa Che vuole cavalcare l'onda Per guadagnare Quindi aveva ragione Però si capiva che sapesse già qualcosa Del contenuto Assolutamente sì Della canzone Assolutamente sì Sento odore di avvocati Ma io non voglio dire Prima che non escano robe Saranno già lì che lavorano Già aggiungono un paio di fogli in più Diciamo Sai poi perché Cosa ha portato molto Diciamo Molta visibilità C'è la settimana della moda a Milano Ok Quindi Fedez è così Pappa e ciccia Con la donatella Versace Mi ha vestito anche il cane La donatella Versace Ha visto Silvio Il cane di Fedez Che mi fa morire Quando si dice cani e porci In questo caso Mancavano solo i porci Quindi evidentemente I cani c'erano Nel senso che i cani c'erano Quindi c'è Posso dire che secondo me Qualcuno In tutta la Fashion Week Ma ci gioco Come si dice Le mani Per dire altro Dire no C'era qualcuno sicuro Che ha portato un maialino in giro Dai Ma guarda Ma ci gioca O il gatto anche Ma sì ma sicuro C'erano cani e porci C'erano tutti e due Io vorrei vedere qualcuno Che porta in giro un uomo Così Quello ho visto delle cose A Zurigo La famosa Pride Come la Parade La Street Parade A Zurigo A Zurigo Cani al guinzaglio Uomini Donne Adoro Comunque Quindi a che punto Sono arrivati adesso Che in realtà Si è sgonfrotto tutto Perché tutto questo Per far uscire una canzone Sì E ha creato molto hype Un sacco di visualizzazioni Gente che era su YouTube A luna di notte Col pigiama E i popcorn Hanno detto Che sono state avvistate Hanno detto Che poi bisogna sempre vedere Chi a caso Mizzia De Palermo Ecco Dice Sai come dico Dice che Dice che Dice che Ecco Gli hanno visti Loro e le loro La loro security Il loro entourage Moderna e poliglotta Sì Biagatti Nella hall di un hotel Che parlavano Di Fedez e Tony F Sì Post Dissing Ecco Dopo tutte queste cose Come certi politici Che si scannano poi Nel programma Prima della prima serata E poi sono a cena Insieme a Roma Scalpore aveva fatto Anche la famosa telefonata Di Fedez Ad esempio Salvini Mi ricordo Dove Si prendono sempre A parole Poi ciao Matteo Cioè nel senso Gli aveva fatto Uno scherzo telefonico Peraltro Salvini Rispose A Fedez Preoccupato Perché Salvini Mi sembra Uno scherzo Di cattivo gusto Poiché Ci conosciamo E vedere Squillare il telefono Alle dieci e mezza Di sera Non è stato Per me Comunque molto divertente Quindi Salvini Si era anche Preoccupato Per Federico Federico Fra l'altro Selvaggia Ricordiamolo Ha aperto una newsletter Alla quale ci si può abbonare Quindi non vi spaventate Se vedete dei suoi articoli A metà Perché dovete pagare Per leggerli Aggiungo giustamente Ti sei già Non ho le finanze giuste O mi faccio i capelli O ascolto Selvaggia Allora C'è l'SMS Facciamo l'SMS solidale Per usare No no Per carità No assolutamente no Se volete mandarmi Il panettone vegano A Natale Non possiamo vendere Dei pandori Per portare i soldi Per portarti fare Non dire pandoro Mi sembra Ho avuto un'idea geniale Non l'ha fatto nessuno Prendiamo dei pandori Ci mettiamo sulla tua faccia E diciamo Li vendiamo Per far iscrivere Silvia Gatti Alla newsletter Sei orrendo direttore Guarda Io mi dissocio Beatrice Di la giovane Non deviarla così Non ti sembra intelligente Con l'idea Mi sembra Mi sembra innovativa Mettiamoci la tua Di faccia Va bene Va bene Comunque La Bea Giustamente Siccome prima Ho tralasciato l'inizio Di questo dissing Perché me lo sono scordato Sì Ma anche perché Si vendito alle calende greche La roba di aprire Maggio Sì Ma poi io avevo Il cambio degli armadi Da fare Le scarpe A parte che è un caldo Oggi Vabbè A Milano E il dissing Ci diceva giustamente Beatrice Che ha iniziato In un programma musicale Chiamato 24 barre 64 Scusate Ho detto 24 Come i miei anni Dove Fedez Ha iniziato A dissare Tony F Giusto Insieme a quell'altro No c'era quell'altro C'era Nick Savage Tony F Ha dissato Nick Savage Non Minage Savage 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 Con il profumo Savage No Savage Vero Stanno tutto questi ventenni Incredibile E da lì poi Quello che sappiamo Savage T'hanno mai preso Come speaker pubblicitario Dovrebbero Hanno fatto bene Se non t'hanno preso Basta Allora Non è l'orario giusto Per questa voce E pur home E anche per i misti Ah C'è qualcuno che dice Che addirittura Fedez E Tony F Avessero avuto una relazione Però adesso Qualsiasi cosa Si può dire Anche che è uno dei due Viene da Marte A questo punto No no Però per dire Sembrava un po' Un litigio fra ex A volte Sai quando le ripicche Insomma Vabbè Ne parleremo ancora Non lo so Spero di no Intanto andiamo con un po' Di musica E poi Vediamo 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 cosa ne dite anche voi da casa 33178535555 Scusate Scusate Sentivo il finale Come disannunci tu Dire veramente Sì ma non mi aspettavo il finale Della canzone così Perché Mi sono un attimo bloccato Io scusate Per una volta Tutto a posto Sono solo le 7.48 Ho avuto un attimo Burn con Ellie Ellie Goldwyn Con Burn Sì bravo È arrivato un whatsapp Che dice Parlate di guinzagli Oddio Eccoli subito E giustamente Ma che si è collegata Solo adesso E quindi mi chiede Ma lei è meravigliosa Chi è? Allora salve Io sono il direttore Fabio Ah no Lei non Mi sta dando di lei Nel messaggio Che non ce l'abbia con lei Fra me e te Credo che ecco Pensavo di essere Che io ero meravigliosa Ma lei Direttore è meravigliosa Caro appassionato di guinzagli Ci sentiamo dopo Ok Non so Se è un uomo o una donna Quindi Va bene anche donna Ah va bene uguale Perfetto Ma lei chi è? E quindi chiediamo Lei chi è? Lui chi è? Ciao sono Silvia Gatti Ok Silvia Gatti Passavo di qui Da Milangeles Da Lambrate Da Lambrate Con furore e mezza ortica Rubattino Si può dire l'età Ma l'ha detto prima 41 Ok 41 anni Speaker radiofonica Di fama mondiale Ma soprattutto in quelli di Lambrate No Neanche i miei cugini di secondo grado Credo sappiano faccia radio Ma va bene così Non è vero dai E come ci sei arrivato qui? Nel senso che capiamo Tu lo sai Io rompo le palle Bene bene Segno Segni particolari? Segno zodiacale e leone Ah leone ok Se lo dicevi agosto Sì 17 17 agosto ok Segni particolari Ritenzione idrica Bene bene Insomma E niente Piango spesso tutti i giorni Ecco Per la ritenzione idrica? No in generale Fa bene Escono gli qui di se piangi Puoi aiutarti un po' Puoi aiutarti Dire ma che cos'è questo sputtanamento In diretta mio? No ma mi hanno chiesto qui Mi hanno chiesto lei Chi è? Meravigliosa Pia ti devi complimenti Però devi anche rispondere alla domanda Allora Alla domanda Sì Salve Lei è? Chi è lei? Che carino Silvia Gattioner su Instagram Se volete seguirmi TikTok non ce l'ho Perché ho passato già Non sei una delle mamme Le mamme TikTok Non sono le mamme No ma nel senso Quelle lì che sono Appunto Stavo dicendo C'hanno più di 40 anni Come dire Una roba dei vecchi Poi c'ho pensato che siamo anche noi Quindi mi sono Sì noi insieme facciamo 80 anni e passa Mi sono rallentato un attimo Ne facciamo 85 insieme Mamma mia non me ci fa pensare Mamma mia siamo pronti Altro che prostata Perché prima parlavo fuori onda di cose Allora Cioè qui però Medicina 33 Sta bussando E fateci sapere La vostra osteoporosi Se volete Se avete fatto tutti i controlli Tutti i controlli Vogliamo parlare del brand vegano Di prodotti per capelli Che ha pubblicizzato Chiara Ferragni in Spagna No ma parliamone Io guarda guarda Ne sapevo tantissimo ma non volevo Quindi chiedo a te Guarda dire vengo lì Allora polemica Chiara Ferragni in tutto sto casino Ha preso e andata a lavorare all'estero E ha fatto bene Credetemi sempre ben vestita e truccata È la figura nuova Come si dice la brand Oddio chiara Beh come si dice quando una rappresenta un brand Ambassador Che bello avere la redazione giovane Testimonia È la testimoniale esatto Di prodotti per capelli Vegan e cruelty free E molti hanno detto Scusatemi Ma con tutte le borse di pitone E gli stivali di coniglio Che tiene nella cabina armadio Proprio lei E allora o qui O gli spagnoli non ci capiscono niente O ci hanno capito tutto E vedremo i risultati fra qualche mese Perché comunque effettivamente è strano Di vegan washing Bravo Mi è piaciuta questa cosa Sì 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 La credibilità più che altro Effettivamente Chiara Ferragni non si è mai esposta Per la causa animalista Non ha mai parlato di veganesimo C'era altro Teoricamente Sì da Da prendere È stata presa lei E così Sì ecco Possiamo anche dire Su insaputa Le borse di cose Le regalavano più delle volte Quindi arrivavano Ma tu non li prendi Anche quello è vero Anche quello Può essere una giusta soluzione Effettivamente Però sai A tua insaputa Qua ci sono case Mi ricordo Cose di ministri Quindi Bruce Priestin Dancing in the dark 7.55 minuti Quasi In conclusione Di Già Eh sì 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 Quando Quando ci si diverte Il tempo vola Il tempo vola Allora Sembri Paolo Bitta Che non sapeva dire i detti Non dirli Se non li sai Io capisco sia presto Ma mi stai perdendo colpi Avevo Posso dire Ho preso lo scetto di Luca Giurato Molto probabilmente Per quello Che salutiamo Caro Luca Giurato Qualcuno doveva portare avanti Certe tradizioni Quindi sostanzialmente È ricaduto su di me Vogliamo salutare Ricordare anche una vera Sciura milanese Che era Paola Marella Brava 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 Sì 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 Veramente È una di quelle notizie Che è arrivata Nel weekend Giusto Ha pubblicato quattro giorni fa Cinque giorni fa Uno dei suoi video Dove comunque faceva vedere Un po' di tutto Sia le case Ma anche i vestiti Sì 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 E niente Ci ha lasciati Paola Marella Volto storico di real time Dal 2005 Quando ancora Quel tipo di tv Qui in Italia Era avanguardia pura L'ha ricordata Enzo Miccio Le sue collaboratrici E tanti volti Comunque della televisione Dello spettacolo Era molto amata Era proprio La tipica sciura milanese È presente Con la pashmina E le ballerine Ma mai Mai fuori luogo Sempre comunque Un salutone Purtroppo Adesso non voglio concludere Con Però Ci ha lasciati anche La mamma di Marco Mengoni Salutiamo Marco Mengoni Erano molto legati Lo sappiamo Nell'ultimo Sanremo Anche lui Le aveva dedicato Uno spazio Probabilmente Già la signora Non stava bene Qualche mese fa E nulla Sono delle perdite grosse Esprimiamo insomma Come Good morning Milano La nostra vicinanza Ma Chiusa questa triste Parentesi Ma doverosa Dire Mi richiami Al telefono E basta Ah non c'è più Attraversati la città No Penso a te Più che altro Come ti è venuto in mente Di richiamarmi Dai lo sai Che quando Io quando ho bisogno Di aiuto da casa Ti chiamo Grazie Ti faccio venire Spiegarci queste cose Dopodiché come avete notato Adesso cerco di sbattizzare Un attimo Se avete bisogno Per necrologi Funerali Così potete chiamare Silvia Gatti Che è bravissima A fare discorsi Di commiato Che fa così fiori Amici Amici Ci sentiamo più tardi Ciao Gerle 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 Grazie